Ma lo avete cercato il maniaco religioso? Ma che siete scivoliti? Io volevo appassare raggiù e sanguore a Cristo ma che avevo in tentazione un'ora di femmela vittorio ficcavo pizzi di orna ma perché non mi volete vedere? Oh! Zitto! Che dice che non lo capisco? Qui l'animale senza offesa dice che per tre giorni ha ficcato avete capito cosa significa ficcato? Per tre giorni consecutivi quindi non ha potuto salvare il Cristo dal Giuda Dove sta questa bottana? Non mi capisci chiedeteglielo voi animale! Dove sta questa bottana? Ce ne hanno ragioni è uguale ma c'è una ciziera, una casa e la gine già fuori Puzzata! Pedeva, 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 pedeva c'è pedeva tutto cosa! Grazie! 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 Grazie!